E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. E' arrivato il momento di Thurist, la storia della Serie A raccontata attraverso i suoi protagonisti. I gol più belli, i momenti decisivi. Il prossimo, secondo panno, Margas, sinistra, che golla! La mia rettina in vantaggio! Che salvataggio di Jacopo Sala! Questa settimana la nostra classifica si occuperà dei salvataggi impossibili. Vale tutto per salvare la propria porta. Credezze individuali preziose quanto un gol. E' importante trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Salvataggio di Bernardeschi! Di testa, di tacco, in acrobazia. Questa è la top 5 scelta per voi. Apre Spidi González Medel. Velocità e coordinazione in soccorso dell'Inter. Quarto, Claudio Marchisio. Cosa si fa per salvare un amico come Gigi Buffon? Podio per Paolo Cannavaro nell'occasione. In decollo verticale. Il miracolo di Cannavaro sulla linea. Paolo Cannavaro, un intervento che vale quanto un gol. Posto d'onore per Andrea Masiello. Sempre più difficile. Scuro umano. Per due volte. Masiello a canone! Ancora Masiello! Come un portiere! Evita uno a uno! Ma nessuno batte Giuseppe Biava. Sempre due miracoli di fila. Ma coefficiente di difficoltà ancora più alto. Biava! Salda sulla linea. Palla entrata. Munari traversa. C'è da ancora lì. La palla. Confusione. Poi Biava. Munari sul fondo. È successo di tutto. The List torna la prossima settimana. Col primo aprile. Attenzione a scherzi. E a brutte sorprese come le incredibili papere dei portieri.